Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale E sempre a sasera ovviamente, tipo dici minuti dopo Non abbiamo fatto in tempo a vedere, oggi pomeriggio mai uscito, come avete già detto dal titolo come sempre Il video di BTS, hanno spoilerato finalmente qualcosa del nuovo album Cos'è, persona, maps of soul Insomma adesso, da quello che abbiamo capito, c'è Namjoon in questo video Quindi, yes Apre l'album Via Ah, era quello che camminava l'altro Madonna cos'è, tipo, vado a come si chiama, la canzone quella di J-Hope Ah, giusto A me ne ho in mente i TXT Eh, spoiler Ehi Che bello questo colore Eh, infatti Sì No Questo buio Eh, il mio volino è June Comunque, eh, epoca, primi album, quella di offerti Mi piace Esatto E mi piace la cosa, mi piace Mi piace Ma sei vestito Ma sei vestito? Io con una, una vestata Ma perché è metà, è metà Ma infatti non capisco Comunque E któ Così? Ah, là c'era il pensiero è scritta bts scritta come un tempo tipo che l'hai vista? ho guardato di la per una volta e non ritrovato lo so mi è caduto l'occhio è vero? è vero si Bara Kim Dan Joon yeah for president esatto voglio Kim Dan Joon come presidente grazie in Italia in Italia ecco perchè è venuto a farsi il giro in Italia eh oddio questa roba è inquietante fa tanto idol che bene in bianco guarda che bene in bianco ma si infatti scusa ma io adoro questi capelli di questi capelli di colore si poi è bianco agente ma è tutto collegato si collega all'inizio mamma mia ma che bello che bello anche sti cosi si infatti madonna ma al capo è Luigi canto si è esatto ma al capo è Luigi Luigi Kim bello Kim Luigi Kim Luigi si fattezzato mamma mia ma cosa è sta cosa le Kim Luigi che riprese le Kim Luigi mi è venuta mi è venuta mi è venuta ci sta però ci sta infatti diteci nei commenti se avete visto questo comeback trailer si sa quando esce l'MB ad aprile vanno a fare la premiazione in America ah boh ecco l'accanto per la prima volta ma bene ottimo diteci nei commenti se siete fan di BTS se siete delle armi se questa cosa vi è piaciuta mi è piaciuto di si se volete Kim Luigi for Pages iscrivetevi al mio canale se vi piacere e noi ci vediamo in un prossimo video ciao